Onorevole Rondini, questo disegno di legge delega al governo che parla di svuota carceri, che cosa c'è che non piace alla Lega Nord? Non piace alla Lega Nord sicuramente il fatto che all'insegna del politicamente corretto, come al solito, si sacrifichi la sicurezza dei cittadini su questo altare. E di più ancora oggi si ricompatta con la maggioranza che risponde al politicamente corretto, così come è avvenuto dal 2006 in poi. Intorno a provvedimenti, e questo lo è, rientra in quella casistica, che di fatto minano la sicurezza delle nostre comunità. A partire dal 2006 appunto si è registrata questa convergenza fra diverse forze politiche. A supporto di queste teorie, il Sole 24 Ore, che cosa dice a proposito? C'è poi da registrare anche un altro particolare, il discorso non solo il Sole 24 Ore, ma molti quotidiani ci hanno dato notizie la settimana scorsa dell'aumento di reati quali i furti e gli scippi. Guarda caso il furto e lo scippo sono quei reati che rientrerebbero nella categoria che potrebbe beneficiare del provvedimento. E quindi i responsabili di questo tipo di reati potrebbero tranquillamente scontare la pena a casa propria. Ce ne dà notizia sotto un eloquente titolo che era reati l'anno nero di furti e scippi. Alla luce di questi dati il Ministro Alfano ha annunciato che sta in accordo con l'Anci preparando un piano per la sicurezza. Ci chiediamo se il Ministro Anna Cancelleri sappia quello che sta facendo il Ministro Alfano. Questo governo sembra in perida ad una sorta di schizofrenia dove il braccio non sa cosa fa la gamba. Oppure piuttosto ancora peggio siamo davanti all'evidenza che questo governo per le diverse componenti che lo compongono è costretto a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Però il tutto naturalmente passa poi sulla pelle dei cittadini onesti che si vedranno consognare ad un futuro sicuramente meno sicuro.